E' accesa la luce? E' accesa la luce rossa? Sì. Ok. Vai allora. Go! Go! Stiamo lì anche. Sì, sì. Sempre ingazzata. Sempre ingazzata. Sempre ingazzata. Dov'è Giorgio? Dov'è Giorgio? Dov'è Giorgio? Dov'è Giorgio? Dov'è Giorgio? Oddio! Ma che ti dicevo che voglio fare? Apprendi a rimrescarci un po', dai. Apprendi un po' d'acqua. Ah! Come è Giorgio? Ah! 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 Ah, vai! Facciamo un momento. Che va beh? Ah, un passaggio. Giorgio. Giorgio. Una crepata. E' accesa la luce rossa? Che lambeggia? Guarda che fermo, eh. Guarda Giorgio. Che dici Giorgio? Giorgio? Com'è? 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 Si vede bene, ragazzi. Vai. Nooo. Stiamo con lui, te l'avevo detto? Nooo. Lui l'avevo detto, spero. Ciao Amigliano. Ciao Amigliano. Ciao Amiglianisini. Allora. Qua la posso fare? Grazie a tutti 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 Vai a tutti Grazie 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 a tutti